Benvenuto nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù. Lo spazio, i colori, la luce, le immagini, l'architettura, il suono. Elementi che donano pace al nostro affannoso e frenetico andare e venire, con la mente popolata da impegni e preoccupazioni. Sei qui, con la tua storia, le gioie, le ferite, speranze deluse e desiderio di ascolto. Attesa. Silenzio. Gesù ti accoglie e ti mostra il suo cuore ardente. Ti ha atteso. Sosta in silenzio. Respira la sua dolce presenza amica. Lasciati abbracciare dallo spazio. Colonne che invitano ad alzare lo sguardo. Archi, volute, colori ed immagini che raccontano di lui e di te. Respira il silenzio e godi l'incontro con Gesù che ti attende.